Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di ReTV. Oggi è sabato 2 luglio e apriamo il nostro telegiornale con una notizia che mette la Sicilia al primo posto tra le mete più ambite per trascorrere le festività e le ferie estive. Infatti è tra le preferite di questa estate e tornano dopo due anni bui anche le richieste per l'estero. Se lo preferite le località di mare, la nostra Sicilia ne ha di straordinarie. Il servizio è curato per noi da Filippo Romeo. Si resta in prevalenza in Italia anche quest'estate per le vacanze, anche se non mancano le richieste per l'estero. A prediligere il bel paese l'80% dei suoi abitanti, il restante venti guarda oltre i confini. Tra le mete preferite la Sicilia subito dopo la Puglia assieme alla Toscana, bene anche Emilia Romagna, Sardegna e Calabria. All'estero si sceglie la Grecia e poi con un po' di distacco Spagna, Francia e Croazia. C'è grande voglia di mare scelto nel 57% dei casi, seguito a distanza da montagne e città d'arte tra il 13% e l'11% delle preferenze. Sono 28 milioni di italiani già in viaggio pronti a partire per le ferie. Questa l'analisi dell'osservatorio Conf Turismo di Conf Commercio. La Grecia in primis, in assoluto, perché ci sono diversi voli diretti da Catania o anche la Francia, quindi la Provenza, la regione attorno a Parigi, Londra un po' meno perché c'è il problema della Brexit, quindi non tutti hanno il passaporto. E c'è anche questo problema abbastanza grande di poter fare il passaporto in tempi piuttosto brevi. La Sicilia è tra le mete scelte? La Sicilia, sì, poi diciamo che con il programma Sisi Isili c'è stato anche abbastanza interesse anche per i weekend. È un po' difficoltoso poter organizzare questo perché comunque chi ci chiede di poterne usufruire, quindi delle due notti a pagamento e l'ultima free, è anche un'escursione a prezzi veramente abbastanza bassi e quindi non è facile trovare queste disponibilità. Però sì, ancora la Sicilia sì. Si spenderanno, secondo le stime, 1.250 euro in media testa per le vacanze di sette giorni o più, anche se la propensione è quella di spezzettare giorni di vacanze in più riprese. La crisi internazionale con il caro Energia preoccupa e incide in qualche modo nella scelta delle mete? Allora, certo, incide parecchio anche perché a livello di costi siamo sempre costretti a dover comunicare al cliente, almeno fino a 20 giorni prima della partenza, eventuali aumenti carburante che sulle mete a medio raggio o corto raggio ovviamente non incidono tantissimo. Però chiaramente il cliente quando firma un contratto, insomma, è una cosa un po' antipatica dovergli comunicare che fino a 20 giorni prima ci può essere un aumento. Si sceglie una vacanza di una settimana oppure si predilige un fine settimana? Allora, in questo momento no, c'è richiesta delle settimane intere. Fino, diciamo, fine maggio, metà giugno c'era richiesta di weekend e poi tornerà, come sempre, il classico ferragosto, tre notti, e speriamo possiamo vendere perché, ripeto, nonostante i prezzi si siano alzati e nonostante c'è la tendenza appunto di fare la settimana intera e di essere predisposti, spesso non si trovano le disponibilità. Un italiano su due ha già deciso e fissato tutto, dice Conf Turismo di Conf Commercio. Il 16% sceglierà una soluzione propria o andrà da amici o parenti, mentre il 31% ha già prenotato. Per il restante 50%, metà ha già prenotato strutture ricettive e mezzi di trasporto, mentre gli altri stanno ancora decidendo. La prima ad essere concretamente programmata è la vacanza principale, come ha già fatto il 73% degli intenzionati a partire in questo mese e il 65% dei vacanzieri di agosto. Sono molto contenta, parliamo di politica, di potermi confrontare con Caterina Chinnici e Claudio Fava. Barbara Floridi del Movimento 5 Stelle, attuale sottosegretario all'istruzione, è stata presentata stamattina all'Ars, come candidata alle primarie dell'area progressista in Sicilia. Perché Conte mi ha scelto, ha detto questa mattina, perché con il Presidente abbiamo valutato che il mio nome potesse portare un valore aggiunto, dato non solo dalla mia esperienza di governo, ma da un'esperienza in un governo di coalizione con altre forze politiche progressiste. Il servizio di Luca Licata. Dopo indecisioni, pareri discordanti e dubbi, alla fine sarà lei, Barbara Floridia, la candidata del Movimento 5 Stelle alle primarie dell'area progressista in Sicilia, previste il prossimo 23 luglio. Un nome, quello della Floridia, attuale sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, che arriva dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri. Adesso sfiderà Caterina Chinnice e Claudio Fava nella consultazione in vista delle elezioni regionali d'autunno. L'armonia intorno al mio nome è spontaneamente nata, sia dai colleghi che sono in Parlamento, al Senato, alla Camera, ma anche da tutti i regionali, ma soprattutto mi permetta, da quella che noi chiamiamo la nostra base. C'è un entusiasmo che mi onora e mi riempie non solo di orgoglio, ma anche mi carica di responsabilità. 45 anni, Messinese e Barbara Floridia, è stata eletta nel 2018 al Senato. Nel marzo 2021 è stata chiamata dal Premier Draghi a ricoprire il ruolo di sottosegretaria all'istruzione. Il suo nome è stato in bilico fino alla fine. Voci davano come favorito il capogruppo all'Arts Nuccio di Paola. La scelta poi è stata delegata al leader del Movimento, Giuseppe Conte. Io posso portare un valore aggiunto al gruppo dei nostri regionali che già hanno lavorato benissimo. Qual è il mio valore aggiunto? L'esperienza di governo, l'esperienza di governo anche in coalizione e quindi noi vogliamo, per il bene della Sicilia e dei siciliani, avere più strumenti possibili. Credo di poter avere quella freschezza, permettetemi, anche quella semplicità di cui anche le persone hanno bisogno. Sono certa che sia la Chinnici che Fava mi affiancheranno, se dovessi essere io, e aggiungeranno la loro grande esperienza alla mia. Però forse la Sicilia adesso ha bisogno di persone energiche, giovani, fresche, che veramente vengono dalla vita comune e che forse possono portare quel valore aggiunto di cui tutti abbiamo bisogno e credo anche loro. Da Palermo a Catania, dove questo pomeriggio partirà il corteo arcobaleno per celebrare il Catania Gay Pride 2022. Abbiamo fatto un giro nel capoluogo etneo per vedere il work in progress. Madrina dell'evento sarà Vladimir Luxuria. Torna a Catania dopo due anni di stop causa restrizione da Covid-19 il Gay Pride. Il corteo arcobaleno che si snoderà per le vie del centro cittadino partirà oggi alle 17 da Piazza Borgo per poi giungere a Villa Bellini, Piazza Sesicuro e infine Piazza Università. Madrina d'eccezione dell'evento Vladimir Luxuria che sfilerà al fianco della comunità LGBT. Dopo due anni di stop causa pandemia si ritorna al grande corteo del Catania Pride che tanto mancava a questa città non soltanto alla comunità LGBTQI+, ma a tutta la cittadinanza perché ormai il Pride sposa battaglie intersezionali che riguardano quindi non soltanto le istanze della comunità ma anche proprio quelle di tutta la città, la stessa città che sta vivendo un periodo oscuro e quindi manifesteremo e coloreremo tutta Viettenea a partire dal Borgo con concentramento alle ore 17 poi le conclusioni a Piazza Università con degli intervalli durante il percorso a Villa Bellini e a Piazza Sesicuro. La sera poi il partifinale che si tende da presso il Blue Beach a Lido Azzurro per concludere insieme il Catania Pride 2022 insieme anche alla nostra madrina che manifesterà con noi Vladimir Luxuria. Un corteo che conclude una ricca settimana di appuntamenti al Pride Village allestito alle ciminiere. Prevista quest'oggi una massiccia affluenza. Particolare attenzione è stata posta sul tema della sicurezza. La sfilata verrà ascoltata dalle forze dell'ordine sino alla sua conclusione. Sulla sicurezza abbiamo non soltanto per quanto riguarda il corpo della polizia che saranno ovviamente tutti presenti dal Digos alla Questura ovviamente anche inviteremo, dato che ci sarà certamente e i numeri saranno molto alti si prevedono stipendamente i numeri che Catania non ha mai aggiunto anche non soltanto per il grande lavoro che hanno svolto e che abbiamo svolto insieme ai volontari e alle volontari e alle associazioni ma perché dopo due anni è proprio sentito questo Pride. Quindi anche lato salute magari cerchiamo, se c'è troppo assembramento, di raccomandare la mascherina. Il loro nome di battaglia era Arabzone 90133, zona araba con il cap del centro storico di Palermo e i luoghi della Movida dove una banda di magrebini italiani aggrediva con violenza e rapinava le vittime che appunto venivano prese di mira. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone tra queste 6 maggiorenni e 5 minorenni accusati di far parte della banda criminale giovanile. Gli indagati sarebbero gli autori di aggressioni con bottiglie di vetro rotte, bastoni contro alcuni frequentatori della Movida palermitana. Avvenute lo scorso 7 gennaio ed anche il 15 giugno. Il gruppo aveva anche dei canali YouTube e TikTok con numerosi follower. Il branco alimentava il proprio potere, il predominio, con i profili social su TikTok, YouTube e Instagram con quasi 1500 seguaci virtuali, affermano gli investigatori. Nella zona attorno a via Maqueda, nel centro storico, è stato anche picchiato e rapinato un poliziotto libero dal servizio che era intervenuto per proteggere alcune coppie ed un disabile in carrozzina aggrediti. In quell'occasione il poliziotto sparò 11 colpi di pistola in aria delle 11 persone, come dicevamo 6 maggiorenni e 5 minorenni, raggiunte da un provvedimento cautelare del GIP di Palermo. 5 sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari e ai minorenni, 2 al Malaspina e 3 in comunità. Rimaniamo a Palermo per segnalare ancora una volta la vergogna del cimitero dei Rotoli, nostro piccolo viaggio tra i feretri accatastati in più punti del Camposanto in attesa di sepoltura, un problema che non trova soluzione pur trascinandosi da anni, con parenti e familiari di chi non c'è più, costretti a lasciare frettolosamente la struttura per via del cattivo odore. Impossibile inoltre lavorare in questi ambienti. Nessun aiuto infatti arriva dalle mascherine FFP2. La vergogna del cimitero dei Rotoli a Palermo, con le bare da oltre un anno accatastate e in posti di fortuna, insepolte, oggi anche sotto al tendone bianco, che accoglie da tempo le salme tra degrado e promesse fatte e mai mantenute. Le scene si consumano quotidianamente con i cortei funebri, che si concludono in questi spazi con parenti e familiari di chi non c'è più, costretti a lasciare il loro caro estinto a causa del cattivo odore proveniente dai feretri, che custodiscono le spoglie mortali di chi, ancora un po' di pace, non riesce a trovare neppure da morto. Uno scandalo, una notizia che quasi ormai non fa più notizia, un messaggio forte e chiaro, quello che arriva guardando alla situazione. Un problema che evidentemente può ancora attendere, parole che fanno accapponare la pelle, se si pensa che le bare già nelle scorse settimane erano state sistemate anche in alcuni uffici. Attualmente se ne contano un migliaio tra i vari settori di accomodo, anche negli spogliatoi e nell'area dell'ex vivaio. Un ambiente invivibile per chi qui lavora e per tutti coloro che vi si recano, impossibile non calpestare i feretri in legno, una umiliazione continua. Una vergogna, nessuna pietà per i defunti qui in questo limbo, anche da due anni. E si va avanti con un nastro adesivo per sigillare porte di collegamento tra i vari uffici, persino con addosso le mascherine FFP2, impossibile stare da queste parti. Rabbia, orrore, nausea. Sono sentimenti e sensazioni che qui riescono a farsi strada, dopo il dolore per la perdita dei propri cari a Palermo. Nessun decoro, immagini raccapriccianti da un capoluogo di regione italiana, da una città europea, lo strazio, come se già non bastasse, violato da un sistema sordo che chissà ancora per quanto tempo sarà disposto a rinviare una soluzione che tra preghiere e lacrime si spera ancora di vedere. E se a Palermo la situazione è quella che avete appena visto, importanti novità arrivano invece ad Acireale, la San Sebastiano, società che gestisce i servizi cimiteriali, qui annuncia la nuova programmazione con la realizzazione di nuove tombe ipogee, raccolta differenziata e disinfestazione degli spazi comuni. È stata anche avviata la discussione con l'amministrazione per la riqualificazione e messa in sicurezza dei colombai all'ingresso nord del Camposanto. Il servizio è curato per noi da Salvo Cutuli. La San Sebastiano SRL, la società che ha in appalto la gestione del cimiterio di Acireale, ha pianificato un massiccio programma di interventi, a cominciare dal servizio della raccolta differenziata, predisponendo un accurato piano di posizionamento dei cassonetti per differenziare i rifiuti nell'area cimiteriale, ridurre i disagi causati dall'abbandono di fiori inutilizzati o in carti in plastica abbandonati, dove capita. Potenziata anche la pianta organica con l'assunzione di due nuovi operai destinati ai servizi di pulizia, manutenzione e sepolture. Un annuncio registrato e diffuso attraverso gli altoparlanti interni invita gli utenti a tenere gli spazi comuni puliti. Presto i lavori per le tompe ipogei, le quali potranno essere cedute anche singolarmente, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, un anno per la consegna delle opere di sepoltura a 12 posti. Tutto fermo a momento invece per la costruzione di nuovi loculi su strutture più livelli. La prossima settimana arriverà un macchinario idoneo alla pulizia e disinfestazione del piazzale di ingresso e di aviare all'interno il Campo Santo, operazione che si ripeterà periodicamente. Completata la capitozzatura degli alberi all'alto fusto, all'ingresso e nella parte monumentale, i lavori proseguiranno con le scerbature e la pulizia delle aiuole. La società da me rappresentata, con l'ausilio anche, devo dire, dell'amministrazione, abbiamo deciso di fare la differenziata. Primo per il rispetto del luogo, del luogo sagro, abbiamo dotato il cimitero a spese del San Sebastiano di tutti i contenitori e ne stanno ancora arrivando altri. Il presidio sarà sia nel vecchio Campo Santo che nel nuovo, dove faccio l'anteprima. La prossima settimana iniziano i lavori del completamento del project. In questo momento andremo a realizzare solo le tombe, le ipogee, dove però il Comune ha concesso la vendita del posto singolo nelle ipogee a 12 poste. Pensiamo di completare il lavoro in un anno. Avviata l'interlocuzione con l'amministrazione comunale per la sistemazione dei colombai all'ingresso nord del cimitero interdette ai parenti dei defunti in quanto a rischio crollo di alcune parti del manufatto ammalorato e mai manutenuto, di cui l'amministratore delegato della San Sebastiano, Francesco Musumeci, si dice pronta ad avviare le opere di riqualificazione messe in sicurezza con fondi già disponibili. Con il Comune già abbiamo avviato un'interlocuzione da circa un anno. Personalmente io e il direttore dei lavori, quando ci siamo resi conto del pericolo dell'edificio, abbiamo comunicato all'amministrazione i fatti e abbiamo chiuso la fruibilità. Però ci rendiamo conto, vedendo quasi la realtà quotidiana, perché sono quasi tutti i giorni presenti, che è effettivamente un problema da risolvere al più presto. C'è una discussione con l'amministrazione per vedere come andare a risolvere il problema, perché fa parte della manutenzione straordinaria. Adesso parliamo di emergenza incendi in Sicilia, dopo quelli sviluppatisi nei giorni scorsi, in particolare nella zona nord di Catania, e dopo gli interventi avviati sempre nel capologo etneo con la sistemazione delle linee tagliafuoco, si è partiti proprio ieri dalla zona sud e si lavorerà per tutta la città nei prossimi giorni, si potenzia il servizio antincendio anche nel Messinese. Il territorio sarà sorvegliato da droni, maggiore collaborazione, dunque una vera e propria sinergia tra vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale. Il servizio di Filippo Romeo. Droni distribuiti a tutti gli staccamenti della provincia di Messina per monitorare il territorio dall'alto, e poi un elicottero della forestale nella postazione di Naso che si aggiunge a quello già operativo a San Fratello, entrambi con capienti cestelli per la raccolta di acqua, e poi due squadre di vigili del fuoco in più, grazie alla convenzione con la regione siciliana scattata ieri e in programma fino a settembre, illustrate in municipio a Messina le attività di prevenzione incendi, le norme comportamentali da tenere e le relative attività previste dal piano comunale d'emergenza nell'ambito della campagna di prevenzione. In campo anche i volontari, così le dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della regione siciliana, Bruno Manfrè. Sicuramente favoriti anche da queste temperature elevate, da questo clima particolarmente torrido, non ci possiamo aspettare nulla di buono. Sappiamo che sono momenti in cui ci si approfitta di queste situazioni per poter applicare incendi, perché normalmente sono sempre incendi dolosi. Quindi la cosa che si deve fare è aumentare l'attività di prevenzione e pattugliamento sul territorio per cercare di contrastare questi fenomeni e migliorare come noi abbiamo fatto la sinergia tra le strutture proposte allo spegnimento, corpo forestale, vigili del fuoco e il nostro supporto come Dipartimento di Protezione Civile che diamo con le nostre squadre, dei volontari, nell'attività sia di pattugliamento che di spegnimento. La sinergia tra protezione civile regionale, corpo forestale e vigili del fuoco consente, come è stato sottolineato, l'utilizzo di maggiori mezzi e risorse in fase di intervento sul posto, ma anche a livello preventivo, con controlli più accurati sul territorio. Lo spirito di collaborazione tra enti e istituzioni e conseguenzialmente uno snedimento delle procedure di azione permetterà attività tempestive ed accurate. Noi abbiamo già consegnato oltre 113 mezzi lo scorso anno per l'attività antincendio, ulteriori mezzi li abbiamo consegnati adesso, ne abbiamo dati 45, 50 anzi al corpo forestale, ulteriori mezzi per l'attività di spegnimento. Quindi diciamo che le risorse che sono state messe in campo ovviamente più ce ne sono, meglio è, ma quello che noi abbiamo lo stiamo cercando di ottimizzare al massimo e di renderlo operativo su tutto il territorio regionale, non soltanto sulla provincia di Messina. Maggiori controlli sul territorio generano una minore incidenza di incendi e su questo presupposto è fondamentale, oggi ha dichiarato l'assessore alla protezione civile del comune di Messina, Massimiliano Minutoli, fare il punto sulle attività programmate per contrastare il rischio nell'area messinese ed in particolare sulle misure di prevenzione adottate contro gli incendi boschivi. Adesso andiamo a Cicatena in provincia di Catania dove la sindaca Margherita Ferro stamani nel corso di una cerimonia ufficiale ha assegnato le deleghe ai cinque assessori della sua giunta. Il servizio è di salvo cuturi. Il chiostro interno al palazzo comunale di Cicatena è il luogo scelto per la cerimonia di giuramento dei cinque assessori della giunta che affiancheranno la sindaca Margherita Ferro nei cinque anni di mandato elettorale. Cicatena volta pagina per la prima volta nella sua storia politica legge a capo dell'amministrazione una donna chiamata a dare risposta alla cittadinanza su vari fronti, dalla polizia, dal territorio e i conti pubblici che hanno subito un tragollo in bilancio piuttosto oneroso. Ai tre assessori designati, Quattrocchi Sciacca e Giannetto, si aggiungono Sorbello e Silvia Di Mauro. Stamani l'assegnazione delle deleghe. A Davide Quattrocchi la sindaca ha affidato la vice sindacatura il bilancio e i tributi, contenzioso, igiene ambientale e lavori pubblici. A Giuseppe Sciacca, patrimonio, ville, verde pubblico, cimitero, rapporti con il GAL e servizi demografici. Francesco Giannetto si occuperà di sport e spettacolo, turismo, artigianato, commercio e non attività produttive e sviluppo economico. A Rosario Sorbello le deleghe acquedotto e fognature, pubblica istruzione alla collegata edilizia scolastica, politiche agricole, autoparco e rapporti con l'università. Infine servizi sociali e civili, politiche giovanili, frazioni e pari opportunità, le deleghe assegnate a Silvia Di Mauro. La sindaca Ferro ha avvocato a sé le materie relative a bene culturale, cultura e identità, personale, polizia locale, urbanistica, programmazione, fondi del PNRR, finanziamenti europei, transizione digitale e protezione civile. Fatta la squadra, nel rispetto degli equilibri politici che hanno determinato la vittoria elettorale del gruppo o del governo, la sindaca Ferro chiede massimo impegno e unione. Sì, la giunta è una giunta dinamica, ma soprattutto ha voglia di lavorare per la nostra città. Oggi si parte, si parte con le deleghe, abbiamo fatto una squadra di cinque assessori e abbiamo anche la componente femminile, la quale coadiuverà quello che è la squadra. Noi stiamo lavorando per la città, lo abbiamo fatto già da due settimane, ma da lunedì si inizierà in maniera corposa con gli assessori. Quindi siamo una squadra coesa che lavorerà per la città. Qualche vecchio nodo al pettine potrebbe creare il primo scossone quando bisognerà decidere se la trattazione del buco di bilancio con le giunte chiamate a decretare lo stato di dissesto oppure proseguire nel complesso processo di risanamento dei conti pubblici. Intanto stiamo facendo una valutazione. Ora con l'assessore ci siederemo insieme, chiederemo anche il supporto del consulente dell'ente e insieme all'aggiunta poi si valuterà quelle che sono le azioni da fare. Le due settimane sono state due settimane di lavoro per attenzionare la città. Abbiamo fatto scerbatura, pulitura, adesso abbiamo iniziato anche con la disinfettazione e il lavaggio della città che sta avvenendo a step perché la città è grande a livello territoriale, ma tutta la città sarà coperta. Lei ha trattenuto per sé, tra gli altri, anche la dedica per il PNRR che è un punto di riferimento importantissimo per il rilancio del territorio. Ma se noi vogliamo veramente una cicatena che possa avere uno sviluppo e delle opportunità, non possiamo che fare leva su quello che è la programmazione del PNRR. E non solo il GAL ma anche i fondi europei sono questi, la progettualità ma anche la transizione digitale della pubblica amministrazione. Questo è un passo veloce che noi vogliamo dare. Ho trattenuto io queste deleghe perché le deleghe che tiene il sindaco sono le deleghe che poi vengono anche condivise con quelli che sono i vari settori e gli assessori. E adesso vi portiamo alle falde del vulcano, in particolare a Sant'Alfio dove continua la sagra della ciliegia Regina dell'Etna, la cui produzione quest'anno è stata eccellente. La dodicesima edizione della ciliegia gioiello dell'Etna e l'undicesima dell'infiorata con arte, fiori e frutta replicate oggi e domani con un variegato programma. Oggi di mattina l'apertura della mostra a mercato, come già avvenuto lo scorso weekend, il mercato della ciliegia unitamente ai prodotti tipici locali. Mentre nel pomeriggio prodotti tipici locali, animazione curata da arte in festa, trampogliere in fracca, statua vivente, scultori di palloncini per bambini. Alle 17 è previsto un seminario dal tema innovazioni sostenibili per il miglioramento della DOP, ciliegia dell'Etna. Cura del presidente del Consorzio per la tutela della ciliegia dell'Etna, Carmelo Spina seguirà uno spettacolo musicale, alle 23 la chiusura della mostra a mercato. Domani invece ultima giornata della Sagra ed è previsto il pienone di visitatori che potranno dopo l'apertura della mostra a mercato assistere a partire dalle prime ore del pomeriggio, dalle 15.30 al corteo storico. La regina Giovanna alla ricerca del millenario castagno dei 100 cavalli, l'esibizione anche di gruppi folcloristici. L'occasione per visitare anche i diversi musei sparsi nella cittadina. Si è spento all'età di 72 anni, Michele Maccarone si congeda dal pubblico uno degli uomini di spettacolo, di vita sociale e politica più conosciuti dell'Interland giarrese. trasferitosi da sposato a riposto su Trampolino di Lancio fu fondare insieme ad altri amici e appassionati Radio Universal Giarre nel 1975. Continuò a dedicarsi a questa passione nonostante il lavoro in banca. Impegnato in politica nel 94 fu pure candidato alle provinciali sfiorando l'elezione. Tra la fine degli anni 80 e gli inizi dei 90 collaborò con la nostra emittente, con Rei TV, realizzando un fortunato gioco a premi televisivo. Dalla sua mente nacquero negli ultimi anni due importanti kermess che organizzava con passione Lidi in Passerella e Caro Mike, quest'ultima uscita anche fuori dalla Sicilia, prodata a Roma e a Milano. Il suo ultimo, Caro Mike, lo ha tenuto lo scorso dicembre al Cineteatro Garibaldi di Giarra, occasione in cui ha voluto onorare i medici dell'Humanitas. Era già, faceva i conti già con la malattia. Da patron delle manifestazioni si distingueva per il suo fare signorile ed elegante, la sua energia stancabile, la sua voce profonda e radiofonica. Uno stile da cavaliere, qual era sia della Repubblica dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Una delle sue Miss, Lidi in Passerella, Giusy Buscemi, che è poi diventata Miss Italia. L'ultimo saluto al cavaliere Maccarrone domani mattina alle 9.30 nel Duomo di Giarra. Con questa notizia noi adesso ci fermiamo, diamo la linea alla regia per i comunicati commerciali, ci rivediamo subito dopo per le eventuali notizie dell'ultima ora. Le previsioni meteorologiche e la conclusione del TG a tra poco. Rieccoci in diretta, è il momento di scoprire che tempo farà domani. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica 3 luglio. Come vedete il cielo si manterrà sereno su tutta l'isola. Qualche nube sparsa nel centro del Palermitano, ma in compenso nel resto dell'isola, come dicevamo, il tempo sarà decisamente estivo, i venti deboli, i mari calmi. Uno sguardo adesso alle temperature, non variano di molto rispetto a quelle dei giorni scorsi, sul capologo Etneo, minima e massima rispettivamente di 25 e 35 gradi centigradi, le punte più alte nella zona a sud-est, nell'Agrigentino, dove si toccheranno i 39 gradi, mentre le temperature più fresche e nottata ad Enna, nell'entroterra, con 17 gradi centigradi. Il telegiornale si conclude qui, vi ricordiamo che l'informazione di ReTV torna puntuale questa sera alle 19.45. Grazie per averci seguito e preferito a voi tutti, buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video,